un po mi dispiace stare fermo qui parcheggiato con questa bmw serie 1 118d generazione 2020 invece di andarla a guidare ma l'abbiamo già provata in questo test drive qui in alto nelle schere ora è il momento di focalizzarci sulla tecnologia di bordo di questa vettura scopriamola insieme in questo video focus prima di iniziare con la scoperta di questo sistema infotainment con una diagonale da 8,8 pollici e dei bordi in questa forma con appunto dei bordi laterali molto cicciotti focalizziamoci un po sull'ergonomia di questa vettura perché al centro l'utilizzo di questo sistema implica il rotore quindi questo bel manopolone anche touch su cui possiamo scrivere per esempio le lettere della nostra destinazione nel navigatore ma soprattutto con dei pulsanti abbiamo media o map nav quindi ci mostra la nappa o la navigazione la connettività, la connessione magari con un telefono o con un dispositivo la freccetta per tornare indietro in questo caso non c'è una freccetta ma c'è scritto back e il pulsante per avere accesso alle opzioni altri pulsanti comprendono le modalità di guida sport, comfort o eco pro sport e comfort danno accesso anche alle modalità sport o eco pro individual il pulsante per spegnere e accendere l'auto hold l'e-park, l'e-brake insomma il freno a mano elettronico la leva del cambio con l'indicazione delle varie modalità la vedete qui, eccola inoltre abbiamo il pulsante per il disinserimento del controllo di stabilità e anche il pulsante per i sensori di parcheggio e per l'auto start stop qui davanti abbiamo una piattaforma per la ricarica induzione una presa usb, due portabicchiere, una 12 volt e qui dentro vi apri il tunnel centrale con, spero si veda, eccola un'altra presa usb, in questo caso usb-c perché questa è una sba dietro abbiamo due prese usb-c prima di scoprire questo sistema che ha pulsanti fisici per l'aria condizionata benedetti, un lcd separato personalizzato per l'aria condizionata lazard, gli adas qui sotto abbiamo una serie di pulsanti questi otto pulsanti non solo sono a pressione fisici ma sono, ve li faccio vedere per bene sono anche touch a sfioramento, solo fisici per andare avanti e indietro con la stazione radio il volume per mettere in mutuo, per cambiare modalità e anche per avere le news sul traffico davanti ai miei occhi invece il volante con la configurazione di questo display che non è quella full digital da 10,25 pollici ma è misto, analogico, digitale analogico abbiamo la numerazione con la lancetta e anche i numeretti per quanto riguarda il tachimetro e contagiri in digitale la parte centrale ci mostra varie visualizzazioni modificabili con il pulsante che vedete qui su questo satellite infatti possiamo visualizzare vi faccio vedere dalla primissima finestra una visuale minimal con semplicemente l'autonomia della vettura oppure possiamo visualizzare il trip totale con il contachilometro con l'attuale la velocità media e il consumo medio totale insomma il consumo medio attuale con anche quanto stiamo consumando quanti chilometri percorriamo con un litro o ancora l'istantaneo il tachimetro digitale e la bussola con a scelta anche la navigazione in basso abbiamo la lettura di cartelli stradali quando attiviamo il cruise ora ci dice che non è attivabile perché siamo andando troppo piano anzi siamo in park la modalità di guida attualmente siamo in sport l'orario e la temperatura esterna ma ora è arrivato il momento di focalizzarci questi sono tra l'altro i vari pulsanti con controllo delle chiamate della radio del volume del controllo vocale e da questo lato i pulsanti dedicati a cruise e limitatori di velocità ma appunto basta chiacchiere focalizziamoci sull'infotainment come anticipato display da 8,8 pollici in primis vi faccio vedere come si accende e si spegne questo display ho premuto su option e l'ho spento ma se premo sul rotolo su un qualsiasi pulsante si accende dolcemente in option prima di passare alla visualizzazione completa di questo infotainment abbiamo anche altre funzioni la funzione split screen che può essere attivata o disattivata ci mostra appunto uno schermo diviso per quanto riguarda varie visualizzazioni e funzionalità la guida di questo infotainment con i servizi consierge il libretto di uso e manutenzione spegne il control display che è il nome dell'infotainment cambia profilo guidatore se magari abbiamo un ospite oppure membri della stessa famiglia che guidano in maniera diversa questa vettura con delle impostazioni personali lo stato vettura ci mostra le varie funzionalità come per esempio il controllo della pressione per gli pneumatici oppure il livello dell'olio della D-Blue perché è un'auto diesel il check control quindi per la manutenzione gli interventi di manutenzione vediamo tutto in ok o anche la chiamata del teleservice che attualmente ovviamente non faremo oltre a questa abbiamo altre impostazioni se per esempio torno su option molto simile al sistema che troviamo sulla Lexus UX a livello di utilizzo ergonomico di questa vettura abbiamo oltre a cambio profilo guidatore i contenuti del menu principale che possiamo visualizzare quindi della home page praticamente con la mappa o con la navigazione a frecce la mia vettura quindi con un computer di bordo semplice oppure un computer di bordo classico con una lista l'analisi dello stile di guida solo in modalità per OECO PRO per il connected drive appunto i servizi connessi per quanto riguarda la visualizzazione di meteo news, wiki local le info sul paese e flicker ma tornando indietro abbiamo accesso alle impostazioni della vettura con per esempio le luci l'illuminazione dell'abitacolo dove possiamo cambiare attivare o disattivare le luci d'ambiente il loro colore questa è la scelta delle colorazioni dal bronzo a lilla ma la lasciamo in verde torniamo indietro in tutto ciò sto muovendo il rotore centrale come un touchpad così possiamo modificare la luminosità accenderlo spegnerla dell'illuminazione dell'ambiente possiamo anche ridurre la luminosità durante la marcia notturna l'illuminazione esterna ci dà accesso al segnale di svolta tre volte o una volta la circolazione a destra o a sinistra può essere standard le luci di benvenuto e il coming home di 240 secondi rimangono accesi appunto per tot tempo oltre a questo abbiamo impostazioni per quanto riguarda le portiere e la chiave con lo sblocco di tutte le portiere con la pressione sulla chiave sul telecomando lo sblocco del portellone posteriore o anche le portiere bmw digital key abilita la digital key elimina tutte le digital key o il reset con un dispositivo con un telefono con un nfc il blocco automatico entro breve se nessuna portiera viene aperta blocca dopo la partenza inizio viaggio sblocca al termine viaggio quando spegniamo il motore spegni la vettura dopo l'apertura se non c'è più nessuno a bordo lampeggio per quanto riguarda il blocco e lo sblocco delle portiere chiudi retrovisore al bloccaggio il blocco dopo l'allontanamento quindi sistema keyless lo sblocco durante l'avvicinamento intelligent safety l'avviso di collisione di collisione medio avviso di abbandono corsia su l'avviso di collisione può essere medio anticipato o ritardato oppure l'avviso di abbandono corsia può essere off anticipato medio o limitato vi faccio vedere l'accesso possiamo attivare o disattivare anzi solo attivabile o disattivabile a partire da 70 km orari vi faccio vedere anche un altro accesso tramite questo pulsante qui all on individual dove possiamo settare ciò che abbiamo visto cliccando su configura oppure all off teniamo tutto su all on per la massima sicurezza e come vedete il led da verde è diventato rosso quando l'abbiamo spento torniamo indietro vibrazione del volante forte media o debole per l'intelligence safety assistente di velocità quindi ci avverte sui limiti di velocità adeguare il limite di velocità secondo la lettura dei cartelli stradali e anche un avvertimento in base al superamento della velocità massima l'avvertimento stesso della velocità attivato adesso a 90 km orari ma lo possiamo modificare di uno in uno veramente precisissimo e adotta la velocità attuale assistente per la soglia di attenzione in base a dei segnali universali di disattenzione o affaticamento del guidatore parcheggio attivazione automatica del sistema quindi che ci visualizza automaticamente la videata quindi la retrocamera di parcheggio la frenata d'emergenza utilissima e anche l'assistente al parcheggio con un segnale acustico già che parliamo di parcheggio metto un attimo in R quindi in retromarcia o reverse per farvi vedere appunto la retrocamera lo specchietto lato passeggero si è abbassato automaticamente abbiamo le griglie dinamiche con una previsione di dove andremo nel momento in cui giriamo il volante ma non solo se vado a destra con il rotore e non solo anche con il touch che sto evitando di usare per non sporcare lo schermo abbiamo assistente al parcheggio assistente retromarcia quindi praticamente il sistema di parcheggio automatico la telecamera posteriore disattivata per vedere solamente guardate un po' ora la disattiviamo vi faccio vedere abbiamo unicamente i sensori nella finestra in questo split screen adesso ovviamente la telecamera si è riattivata la luminosità della retrocamera oltre a questo abbiamo accesso anche al contrasto alle linee per il parcheggio dinamiche all'indicazione degli ostacoli in 3D ci mostra delle barre verdi gialle o rosse a seconda di quanto siamo vicini e anche le impostazioni che sono quelle che abbiamo visto poco fa tornando indietro alle opzioni abbiamo il tasto di modalità di guida per configurare sport o ecopro individual ci fa configurare sterzo in comfort o sport il motore la risposta in comfort o in sport e il cambio in comfort o in sport possiamo anche resettare torniamo indietro in ecopro individual invece possiamo abilitare un limite ecopro quindi fino a 130 km orari funziona con un'efficienza al 90% l'avvertimento a 130 km orari le funzioni abbiamo la climatizzazione ecopro magari ora lo mettiamo così consumiamo un po' meno ho premuto il pulsante la luce e visibilità ecopro quindi riscaldamento del retrovisore di vetro ridotto e il comando delle luci è efficiente la dinamica di marcia modifica lo sterzo da sport a comfort e possiamo anche resettare ma torniamo indietro comfort della climatizzazione ci fa mettere in sync il clima bizona nella parte anteriore attivare o disattivare la climatizzazione visualizziamo la qualità dell'aria con un ricircolo automatico o tramite l'aria esterna e la ventilazione supplementare quindi attualmente non è attiva però possiamo attivarla per ora di partenza selezionarla come vedete veramente molto comodo infine la localizzazione della vettura quindi l'ultima posizione di parcheggio inviata può essere richiamata tramite l'app o nel portale clienti adesso è attivata ma questa era la parte iniziale focalizziamoci un attimo sul sistema con la home page un pulsante che possiamo raggiungere così o anche col pulsante home in basso infatti ho già lasciato la mia prima impronta che schifo qui in alto invece abbiamo la visualizzazione dell'orario della modalità di connettività attuale sono col mio telefono ma ve ne parlerò in un prossimo video e anche l'attivazione del gps ma appunto siamo nella home che possiamo cambiare con queste due visuali per tutti i widget o solo quelli principali partiamo dalla radio la parte del media abbiamo le stazioni memorizzate con la lista completa diciamo abbassiamo il volume oltre a questo mentre siamo in questa finestra con la freccetta possiamo visualizzare la lista o anche ingrandire l'immagine per quanto riguarda la singola stazione DAB sulla quale siamo sintonizzati torniamo però su media possiamo scegliere tra la radio DAB FM AM in questo caso WeDrive Carlo che è il dispositivo connesso tramite il cavo o anche i vari dispositivi connessi precedentemente abbiamo accesso all'audio con le impostazioni per alti, medi alti e bassi scusate il bilanciamento e il fader quindi anteriore e posteriore destra e sinistra le impostazioni del volume durante la navigazione la navigazione non è attiva ok lo speed volume quindi l'adattamento in base alla velocità il PDC quindi per quanto riguarda la distanza di parcheggio il gong in caso di messaggio o avvertenze il volume del microfono e degli altoparlanti durante le telefonate il reset la conferma acustica per quanto riguarda il touch attiva e anche per quanto riguarda il touchpad con questo pulsante gestiamo i dispositivi mobili ne parleremo nel prossimo video e possiamo personalizzare il menu attivando e disattivando queste singole funzioni o finestre adesso attualmente siamo su DJ30 Songs e quindi abbiamo visualizzata la singola icona della stazione radio sulla quale siamo appunto sintonizzati andiamo a comunicazione questo è il telefono non lo vedremo in questo video ma nel prossimo si può avere accesso però ve lo dico già tramite il widget o tramite il pulsante com in alto a sinistra del rotore sul tunnel centrale navigazione inserimento di un indirizzo pronunciare un indirizzo con il controllo vocale Bari Corso Cavour ok ci ho trovato praticamente la radio anzi scusatemi tramite la ricerca con il controllo vocale ci ha trovato appunto il luogo dove vogliamo arrivare ma possiamo anche scriverlo per esempio Italia secondo le singole nazioni l'indirizzo qui ho scritto Barcellona perché è la prima città che mi è venuta in mente perché possiamo andare sia in questa modalità un po' d'epoca come i telefoni vecchi se ve li ricordate o anche con il touch io in questo momento sto scrivendo con la mia pessima calligrafia Bari ci ha trovato tutte le località che iniziano per Bari torniamo indietro anche la via e possiamo avviare l'autopilota che di base praticamente vuol dire la navigazione di questa vettura le ultime destinazioni quindi quelle raggiunte inserisci nuova destinazione con una ricerca rapida definendo l'indirizzo di casa l'inserimento di indirizzo per punti di interesse possiamo cercarli online per parole chiave per categoria i contatti della nostra rubrica le coordinate GPS guardate un po' formato latitudine e longitudine accetta destinazione possiamo visualizzare la mappa con il rotore scaliamo fino a vediamo un po' il massimo 3000 km di altitudine il minimo invece con una precisione di 25 metri torniamo sui 200 mappa con funzionalità pinch to zoom con un touch che funziona veramente bene il pinch to zoom funziona peraltro anche con il rotore centrale ma premendo possiamo tornare a ricentrare avviamo l'autopilota torniamo alla posizione attuale o salviamo una determinata posizione con il rotore verso destra possiamo cercare un indirizzo oppure calcolare un percorso dare delle indicazioni vocali attivarle o disattivarle le info sul traffico maggiori informazioni sulla cartografia le visualizzazioni della mappa modificabili orientata a nord in senso di marcia in prospettiva lo zoom automatico lo zoom automatico con le info lo zoom manuale e la panoramica dei percorsi oltre a questo abbiamo la mappa interattiva sulla quale possiamo spostarci tramite questo rotore e quindi avere solamente la mappa esci dalla mappa interattiva con una pressione quindi questa era la visualizzazione del navigatore tornando nella home vi dico che possiamo avere accesso al navigatore o precisamente alla mappa con entrambi i pulsanti premendo sul nav andiamo direttamente all'inserimento di una destinazione connetto drive appunto lo store che attualmente non è attivo su questa vettura ma possiamo abilitare determinate funzionalità tramite internet bmw assistance abbiamo l'assistenza incidenti servizi consigliere l'assistenza stradale l'assistenza clienti e la gestione del centro assistenza consigliere services possiamo attivarlo i messaggi di bmw attualmente non abbiamo nulla le app della vettura possiamo usare amazon alex il meteo le news la ricerca online wiki local guida turistica flickr supporto per app bmw info gestisci dispositivi mobili abbiamo tra l'altro anche spotify su questa vettura e personalizza menu per vedere appunto cosa possiamo visualizzare attualmente la mia vettura ecco le informazioni con le impostazioni della vettura che abbiamo visto prima le impostazioni dell'iDrive con le impostazioni appunto del sistema infotainment di quest'auto dispositivi mobili con la gestione la lingua del sistema in italiano la modalità vocale il riconoscimento vocale tramite server e la risposta durante l'emissione vocale impostazioni del touchpad con l'inserimento dei caratteri attivato la mappa i campi di ricerca e la conferma acustica impostazioni del display per il control display per spegnerlo per aumentare la luminosità notturna per il quadro strumenti invece con la navigazione attiva o solo a bussola e con il computer di bordo che ci mostra a bussola informazioni sulla destinazione e anche l'indicazione dell'efficienza tutto ciò attivabile o disattivabile date e ora modificabili impostazione di euro automatica secondo la connettività e gps ora formato ora in 24-12 ore la data il formato della data anzi la data stessa è il formato l'unità di misura consumo chilometri al litro litri su 100 chilometri mpg quindi miglia per gallone distanza in chilometri o miglia potenza in cavalli vapore o in kilowatt coppia motrice in newton metro o foot per libra o chilogrammi al metro la pressione in bar psi o kpa temperatura in gradi celsius o fahrenheit unità audio l'abbiamo visto prima praticamente notifiche classifica per data oppure per priorità visualizzazione di chiamate perse o messaggi di bmw i pop up tasto per la modalità di guida praticamente se questa opzione è attiva premendo il tasto verrà visualizzata la modalità di guida l'aggiornamento del software che ci mostra la versione attuale aggiornarlo ripristinarlo i primi passi per imparare a usare questo sistema quindi i profili lingua e quant'altro protezione dei dati localizzazione della vettura riconoscimento vocale tramite server per contribuire al miglioramento della mappa o elimina dati personali i contenuti nel menu principale li abbiamo visti prima i profili del guidatore anche possiamo modificare le impostazioni dell'ospite per resettarlo lo stato della vettura attuale con tutto in ok l'abbiamo visto in precedenza la tecnologia nella vettura quindi efficient dynamics vediamo un po' ci mostra appunto l'efficienza di questo sistema e anche quanto abbiamo utilizzato le varie modalità di guida l'analisi dello stile di guida con la sua efficienza e i display sportivi quindi quadranti come vedete secondo i cavalli e secondo i newton metro informazioni di marcia computer di bordo ci mostra il consumo magari anche per resettarlo e la velocità media il computer di viaggio inoltre ci mostra anch'esso queste informazioni libretto di uso e manutenzione guida rapida ricerca per immagini ricerca per parole chiave infine il centro notifiche non ci mostra nessuna notifica e premendo sui singoli pulsanti abbiamo l'accesso rapido al media con le stazioni di radio o il bluetooth la home page la mappa come abbiamo visto il navigatore la connected drive la connettività della vettura la comunicazione back per tornare indietro e option per le opzioni che abbiamo visto all'inizio qui invece abbiamo l'accesso premendo su menu AC al menu dell'area condizionata che è quello che abbiamo visto prima praticamente è sotto i vari pulsanti con la visualizzazione della direzionalità la potenza dell'evento della temperatura con l'area condizionata attiva o meno lo sbrinamento per i vetri il ricircolo l'accesso al menu e l'area condizionata al massimo una tecnologia di bordo completa bisogna farci l'abitudine nel suo utilizzo come su un'altra vettura qui in alto nelle schede trovate infatti la playlist completa della Lexus UX molto simile come impostazione di infotainment soprattutto per l'utilizzo ergonomico ora vi chiedo di farmi sapere i vostri pensieri qui sotto nei commenti lasciarci un like se questo video vi è piaciuto vi è stato utile e come fare per essere aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti iscrivetevi al nostro canale cliccate sul campanello per ricevere le notifiche anche seguiteci sul nostro sito e su tutte le piattaforme social che vi vengono in mente siamo praticamente dovunque digitando weDrive.tv grazie a tutti